Cari amiche e cari amici, Francesco Lamedola, Bergoglio segue l'agenda massonica punto per punto. Nella biblioteca di un piccolo paese di collina, l'altro giorno, ci è venuta tra le mani un libretto di grande formato, evidentemente indirizzato a un pubblico di giovanissimi, la cui copertina a vivaci colori e il cui titolo a grossi caratteri non potevano non attirare la nostra attenzione. Paciamama, sottotitolo, la nostra terra, il nostro futuro. E già, proprio così, terra, futuro, con la lettera maiuscola, si trovava in una pila di libri e riviste di quali il bibliotecario aveva deciso di sbarazzarsi perché giudicati vecchi, poco interessanti, ma per anni doveva aver fatto bella mostra di sé sugli scaffali e senza dubbio più di qualche bambino studente delle medie doveva averlo letto o quantomeno sfogliato. Da quanti anni quella pubblicazione aveva indottrinato, per così dire, i giovanissimi utenti di quella biblioteca, ove senza dubbio i loro genitori li mandavano pienamente fiduciosi come quando si sa che i propri figli sono in un luogo sicuro e protetto. Il libro, cento pagine riccamente illustrate e colorate nello stile che piace ai bambini e completo di schede operative didattiche, è del 1999 e porta alla sponsorizzazione, accanto al nome dell'editore, il punto d'incontro, il logo dell'UNEP, quello della Peace Child International, in copertina, in basso, sotto la coloratissima scritta in inglese, by young people of the world, il libro non veniva distribuito gratuitamente, lo ha messo in vendita in libreria alla nomodica cifra di 29.000 lire, era l'ultimo anno della lira, l'equivalente di 14,98 euro. A quanto pare le biblioteche l'hanno acquistata spesi loro, attingendo ai propri fondi, e cioè col dinaro dei cittadini, non ricevuto in omaggio, stesso discorso per i privati. Nel nostro caso, quella copia doveva essere rimassa invenduta in libreria per qualche anno, dato che regava l'etichetta con il nuovo prezzo in euro accanto al vecchio prezzo stampato sul retro. È verosimile pensare che, visto che non andava nella forma della vendita diretta ai clienti della libreria, sia stato donato, oppure che ne sia stata concordata alla distribuzione, magari con lo sconto, presso le amministrazioni comunali e altri enti locali, o presso le scuole statali e gli istituti parificati, senza dimenticare i solleciti vescovi di sinistra e i catechisti e gli operatori parrocchiali aperti al dialogo interculturali, interreligioso e fattori di una critica glorificazione di tutto quel che viene dall'Amazzone e dintorni. In ultima di copertina, si può ammirare un bel saggio di strategia del terrorismo psicologico, nel quale si suggerisce una imminente fine del mondo a causa dell'inquinamento, dei conseguenzi ai mutamenti climatici, della distruzione delle biodiversità, il tutto sotto il titolo, salvare la nostra terra un passo alla volta, dopodiché si spiega. Questo libro rappresenta una perfetta introduzione per i giovani alle sfide ambientali che li aspettano nel ventunesimo secolo. Sulla base di Geo 2000, il programma dell'Organizzazione Nazionale ONU per l'Ambiente, Pachamama descrive al contempo le condizioni del nostro ambiente globale e le azioni che i governi e i giovani stanno attuando per fronteggiare i problemi che si presentano. Col contributo di centinaia di ragazzi di tutto il mondo, il libro include racconti personali, poesie, illustrazioni, un gioco test per verificare le nuove conoscenze dei lettori in modo divertente e formativo. Pachamama, una parola inca, ma significa molto di più di madre terra, suggerisce uno stile di vita in armonia con la natura. Il concetto di Pachamama è facilmente individuabile nel famoso discorso di Capo Settel, la terra è nostra madre. Qualsiasi cosa accada alla terra, accade anche a noi, suoi figli e sue figlie. Questo lo sappiamo bene. Non abbiamo tessuto la trama della vita, noi siamo semplicemente un filo. Qualsiasi cosa facciamo alla terra, la facciamo a noi stessi. Quando l'idolo Pachamama è venuto agli onori, o piuttosto ai disonori delle cronache, in occasione del Sinodo per l'Amazzonia dell'ottobre 2019, allorché i frati e suori si prosternarono ad adolarlo, il Papa lo benedisse, si fa per dire. Lui del resto è così restio a benedire i cattolici. E quando anziani vescovi suggellarono una pessima carichera di farsi pastori, una canizia e vituperosa, come direbbe Manzoni, introducendo Pachamama a spalla, tutti contenti, fin dentro la basilica di San Pietro, valorosamente assistiti dai laici, più che volenterosi, ed attempate, serissime femministe cattoliche, col viso dipinto nei colori indigeni, per la gioia del diavolo e la costernazione dei veri fedeli. Quando queste cose sono accadute, tutti noi, chi più, chi meno, ci siamo domandati, ma da quali oscuri recessi spunta fuori tutto ciò? E da dove hanno preso a prestito questo dal paganesimo sudamericano, ma a che scopo? La risposta è in quel libretto stampato nel 1999, cioè vent'anni prima del tristissimo evento del sinodo dell'Amazzonia, e circa vent'anni prima del movimento per il clima che si è creato dietro l'adolescente Greta Thunberg. In altre parole, Bergoglio non ha inventato nulla. Del resto la sua agenda è talmente monotono e ripetitivo, ossessionante, come quel suo mantra quotidiano del dovere cristiano di accogliere i migranti, che tradisce la più totale mancanza di fantasia. Bergoglio, come Greta, come tanti altri personaggi del terzo piano o delle vere e proprie nullità, vedi, Mattia Sartori, leader delle Sardine. O qualcuno vuol sostenere che i media gli dedicano tutto questo spazio per i suoi meriti, il suo valore intrinseco? Beh, vedi che improvvisamente queste persone vengono proiettate sulla ribalta, sotto la luce di mille riflessioni. Sono un poveruomo divorato dall'ambizione, un uomo vecchio, che teme di morire prima di aver lasciato un segno sufficientemente profondo nella storia d'umanità e che quindi stringe tempi sin dal primo momento in cui è stato eletto. E Bergoglio è stato eletto, e non dimentichiamolo, da un ramo della massoneria, precisamente dalla mafia di San Gallo, per ammissione di uno dei suoi stessi membri, il cardinale Dunnels, è stato eletto per rimpiazzare Benedetto XVI, che si era rivelato troppo indocile a quell'agenda, e per condurre avanti, a tappe forzate, la globalizzazione voluta dai padroni universali, i signori della grande finanza. Da quel 13 marzo 2013, in cui si è affacciato sul balcone del palazzo apostolico vestito da Papa, dal primo istante del suo falso pontificato, non ha mai fatto altro che mettere in pratica l'agenda della massoneria, demolire il cattolicesimo dall'interno, svilire e umiliare la spiritualità cristiana, sostituire il Vangelo con il culto dell'uomo. Paciamama, non è che una delle tessere di questo mosaico, una pagina di questa agenda massonica. Non si tratta di una divinità presa a prestito nel pantone di Quequa o dell'Alto Peru o della Bolivia, no, è un idolo fantoccio, per veicolare, senza averne l'aria, anzi, dietro la maschera rispettabile e politicamente corretta dell'ambientalismo, dell'ecologismo, la strategia massonica di dissoluzione del cattolicesimo e della sua sostituzione con il nuovo umanissimo. Neanche le parole sono inventate da Bergoglio, da Greta o dagli altri servi sciocchi della massoneria, perfino quelle sono state decise e pianificate dall'alto ed essi si limitano a fare i ventriloquo e ripeterle come pappagalli senza nulla metterci di loro perché l'agenda massonica non prevede iniziative individuali, non lascia spazio alla creatività dei suoi strumenti, essa vuole essere integralmente applicata. Punto e basta. I padroni universali stanno per dare un altro giro di vita all'economia mondiale. Tutto quello che abbiamo fin qui sofferto negli ultimi vent'anni è nulla in confronto a quello che ci attende. Le industrie chiuderanno, i licenziamenti fioccheranno come la grande dei nostri figli, laureati o no, dovranno accontentarsi di lavori sempre peggiori, sempre più precari, mal pagati, corriere a domicilio, distributori di pizza, operatori nei call center, oppure dovranno tentare all'esterlo per buscarsi la pagnotta. Avremo sempre più immigrati e i loro figli, i nipoti, saranno maggioranze entro una o due generazioni. È matematico, stanto al quadro attuale, anche nel caso che non sia gravi, ci troveremo minoranza in casa nostra. Per capire che tipo di vita faremo, basta guardare già ora come vanno le cose per le minoranze cristiane nei paesi dell'Africa e dell'Asia, a maggioranza islamica. Anche l'inquinamento aumenterà. Le malattie prolifereranno, comprese quelle della dovuta globalizzazione dei mercati e dei commerci, come il recentissimo virus della Cina, che sta prendendo d'assalto l'Europa. La qualità dei servizi sociali toccherà il fondo. Istruzione, salità, trasporti diverranno l'anticamera dell'inferno, tranne ovviamente per chi potrà permettersi la scuola, l'ospedale e il mezzo per viaggiare privati. A fronte di tutto ciò, i padroni universali si apprestano a spostare l'attenzione dalle masse impoverite sfruttate verso i poli di interesse fittizi, magari illudendole di poter agire, mobilitandosi per migliorare le cose. Ed ecco il fenomeno degli studenti che scioperano per il clima dietro a Greta Thunberg, la quale viene ricevuta in pumpamagna, da capi di Stato, capi di governo. Ecco il rimprovero rancoroso delle nuove generazioni verso le vecchie. Ci state rubando il futuro, ma come vi permettete? Come osate? In tutto, il nome della lotta contro le emissioni di adentride carbonica che in Europa sono già state drasticamente ridotte, mentre inquinare, a livello planetario, sono le potenze emergenti. Cina in testa. Ma intanto si parla di togliere il voto ai vecchi perché pensano vecchio, sono egoisti, odiene i cambiamenti, quindi soffocano le speranze delle nuove generazioni. Non è affatto strano che la proposta in Italia stia partita da Grillo, ma è già, quel Beppe Grillo che era a bordo della Britannia quando venivano decise tutte queste cose e che ha messo in piedi un movimento, poi un partito, al preciso scopo di intercettare il maressere degli italiani, neutralizzarlo, disperdalo sì, anacquarlo, nullificarlo. E non è strano che i partiti progressisti in questa fase storica svolgano la funzione di utili strumenti al servizio del grande capitale finanziario. È già da un pezzo che quest'ultimo li ha individuati come referenti per portare avanti la globalizzazione a trappe forzate, molto più dei tradizionali partiti conservatori. Quelli a un certo punto, rendendosi conto di quel che sta accadendo, hanno rispolverato l'amor di padre, la difesa dell'identità, dei confini, come valori con i quali opporsi alla spoliazione sistematica di popoli e individui che va sotto il nome altisonante di società aperta. Perché questa scelta da parte dei progressisti? Ma è logico. Hanno perso i loro punti di riferimento dopo lo smantellamento del muro di Berlino e la caduta ingloriosa dei regimi comunisti, con tutto il loro corollario di utopie eurosostenibili. Che ci stava a fare in Italia un partito comunista dopo che con la dissoluzione del comunismo quel tipo di alternativa ideologica si era letteralmente dissolto. Non poteva far altro che indossare nuovi panni, travestirsi e ricandidarsi alla guida delle masse e così ha fatto la scelta verde. L'ecologismo, per i progressisti rimasti orfani, era ed è una necessità. E quale scelta più comoda quando sono gli interessi dei padroni universali a finanziarli? Avendo essi già deciso di ristrutturare le multinazionali e la produzione industriale in senso ecologista? Molte delle cose che giacevano bloccate da decenni, come l'auto elettrica, entreranno finalmente sul mercato, ma perché a deciderlo saranno i padroni che ormai agiscono in regime di monopolio? Ah sì, anche il vegetarianismo conoscerà un enorme balzo in avanti. Una volta che la Monsanto è la padrona di quasi tutto il settore agroalimentare, nonché il 90% del commercio degli OGM, quale boccone più gotto per i turbo capitalisti che sfruttare questa nuova fetta di mercato creata d'arte sponsorizzata da personaggi dello spettacolo, alcuni dei quali creati per l'occasione e sostenuti massicciamente dai media. Così come le stanze libertari e rivoluzionari degli anni Sessanta, compresa la musica rock e la cosiddetta liberazione sessuale, sono state monopolizzate e riciclate dai padroni universali per aumentare i loro profitti grazie alle nuove mode, per manipolare con più facilità il pubblico, specie giovani. Così accadrà nei prossimi anni. Vedremo capi di Stato, padroni delle multinazionali, farci dei quotidiani predicozzi sul clima, il panda, la plastica, il CO2 e la Chiesa Cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha rigettato le basi per parificare la verità cristiana con ogni altra verità religiosa. Ma che ci sta a fare? Anch'essa doveva riciclarsi in qualche modo, trovare un nuovo campo di attività, avendo rinunciato al campo spirituale. Si è creata così la convergenza fra ex comunisti e ex cattolici, la convergenza dei furbi, decisi a cavalcare l'onda favorevole spinti e sostenuti dai poteri forti della finanza. Vabbè, torniamo a Pacio Mama, alla diffusione della ideologia ambientalista, con un suo strato umanista, panteista, da parte delle centrali massoniche mondiali, davanti a tutti l'ONU, ora anche il Vaticano. Che c'è di male? Potrebbe chiedere qualcuno. A mobilitare i giovani, a scuotere l'opinione pubblica su temi della convivenza fra l'uomo e le altre specie viventi nel prossimo futuro. Dopotutto, è un problema reale. Il male è questo. Primo, che se la strategia per affrontare quei problemi è scritta nell'agenda della massoneria mondiale, possiamo stare certi che non ne verrà alcun bene per i popoli, ma solo per i padroni della finanza. Secondo, è una perfida astuzia, quella di contrabbandare il nuovo ordine mondiale col pretesto dell'ambientalismo, facendo il lavaggio del cervello ai bambini. Ma è nello stile di quei signori. Ci sono, nel libro della Pacio Mama, anche le schede di autovalutazione affinché l'opera sia perfetta con autoindottrinamento delle nuove generazioni. Bene, cari amiche e cari amici. Insomma, bene, inquietante. Comunque, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo. Grazie.